A Cosenza i militari della compagnia Carabinieri di Rende del nucleo investigativo di Cosenza codiuvati dal personale dei comandi provinciali Carabinieri Cosenza, Catanzaro e Crotone dell'ottavo nucleo licotteri del 14esimo battaglione Calabria, nonché da unità del nucleo cinofili e dello squadrone riportato cacciatori di Calabria, hanno dato esecuzione a 16 misure di custodia cautelare di cui 10 in carcere e 6 arrelessi domiciliari a seguito di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Cosenza su richiesta della locale procura della Repubblica per i reati in concorso di ricettazione, furto ed estorsione due misure di custodia cautelare a seguito di ordinanza emessa dal GIP del Tribunale dei minorenni di Catanzaro per il reato di associazione per delinquere finalizzata ai furti di auto e successive estorsioni l'indagine condotta dal mese di novembre 2017 dai militari del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Rende unitamente a quelli di Cosenza e della stazione Carabinieri di Montalto Fugo scaturisce da una seria recrudescenza del fenomeno dei furti di veicoli rilevato nell'area urbana di Cosenza e Rende nella zona vicina Valliva di Montalto Fugo, molti dei quali rinvenuti pochi giorni dopo la presentazione della denuncia di furto nel corso dei complessi approfondimenti investigativi sono stati acquisiti elementi utili a delinare uno strutturato gruppo criminale composto in gran parte da soggetti di etnia Rom i quali, secondo un consolidato modus operandi, trafugavano veicoli, in particolar modo Fiat Panda, Punto, Grande Punto, Cinquecento e Lancia Y contattavano i proprietari degli stessi attraverso cabine telefoniche pubbliche al fine di imporre loro, nell'ambito dei milati incontri presso il villaggio degli Zingari di Cosenza la correspensione di somme di denaro per la restituzione solo al lato della riscossione e il provento dell'estorsione indicato in un porto variabile da 300 e 1500 euro indicavano ai proprietari dei mezzi il luogo dove avrebbero potuto rinvenirle grazie